Voglio parlarvi di immigrazione, però la questione stavolta non riguarda i traffici irregolari di migranti per i quali comunque ricordo che l'impegno dell'intero governo ha permesso fino a questo momento di abbattere del 60% gli arrivi illegali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È un risultato possibile soprattutto grazie ai rapporti di collaborazione con i paesi del Nord Africa, Tunisia e Libia in testa. Quello su cui voglio concentrarmi oggi è un'altra questione che riguarda invece i flussi migratori in apparenza regolari. Il governo in questi mesi ha monitorato i flussi di ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro e i dati che sono emersi sono inquietanti. Il fatto è questo, da alcune regioni su tutta la Campania abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro. E il dato ancora più allarmante è che solo una percentuale minima degli stranieri che hanno ottenuto il visto per ragioni di lavoro in base al decreto flussi ha poi effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro. Per darvi un'idea, in Campania, regione dalla quale vengono fatte richieste di nulla osta per 157 mila persone, che sono più della metà delle richieste totali, meno del 3% di chi ottiene il visto per lavoro stagionale nel settore agricolo o turistico alberghiero, sottoscrive poi effettivamente un contratto di lavoro. Questo significativo scarto tra il numero di ingressi in Italia per motivi di lavoro e i contratti di lavoro che vengono poi effettivamente stipulati è però una caratteristica che accomuna, con numeri meno spaventosi, molte regioni italiane. Che significa? Secondo noi significa che i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati in maniera fraudolenta e come canale ulteriore di immigrazione irregolare. Significa che ragionevolmente la criminalità organizzata sia infiltrata nella gestione delle domande e i decreti flussi sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l'accesso in Italia per una via formalmente legale e priva di rischi a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro. L'ipotesi in infiltrazioni criminali è rafforzata dal fatto che la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni avvalendosi del decreto flussi proviene da un unico stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche per prime parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro. I bengalesi sono anche la prima nazionalità di immigrazione illegale nei primi cinque mesi di quest'anno e questo presuppone che ci sia un collegamento tra organizzazioni criminali che operano nel paese di partenza e organizzazioni criminali che operano nel paese di arrivo. Allora non ho esitato. Questa mattina mi sono recata dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, ho consegnato un esposto sui flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri avvenuti negli ultimi anni avvalendosi dei cosiddetti decreti flussi. L'esposto dall'autorità giudiziaria era doveroso per accertare quello che era accaduto fin qui ma è anche necessario che il governo ora intervenga per fermare questo meccanismo perverso e criminale per il futuro. Ci troviamo di fronte a un meccanismo di frode e aggiramento delle dinamiche di ingresso regolare con la pesante interferenza del crimine organizzato che noi dobbiamo immediatamente fermare. Il governo sta già lavorando a una serie di norme per fermare questo fenomeno che porteremo in uno dei prossimi consigli dei ministri e mentre il governo individuerà le necessarie soluzioni per il futuro chiaramente auspico che si faccia piena luce su quanto è avvenuto negli scorsi anni perché è ragionevole ritenere che le stesse degenerazioni si trascinassero da anni e mi stupisce che nessuno dei governi precedenti se ne sia accorto. Modificheremo i tratti che hanno portato a queste sorture, lo faremo nel rispetto del principio che ispirò la Bossi Fini che ha regolamentato il fenomeno in questi anni cioè consentire l'ingresso in Italia solo a chi è titolare di un contratto di lavoro. L'obiettivo è ristabilire un principio inderogabile. In Italia si entra regolarmente se si ha un contratto di lavoro e non intendiamo più consentire alla criminalità organizzata di aggirare lo Stato per portare avanti i suoi ignobili traffici.